segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te e su questo però lei la personalizzazione la politica l'ha vissuta in prima persona quella silvio berlusconi che ha creato quel centro destra che ora governa in qualche modo di cui lei è stata una parte fondante sì io partecipato a questa fondazione perché ero convinto che fosse necessario radicare al centro un'esperienza moderata e che in prospettiva mi hanno chiesto l'altro giorno proprio questo mi hanno chiesto invece ma lei perché scelse berlusconi e non prodi perché io pensavo in quella stagione che come i democratici cristiani tedeschi come i democratici cristiani spagnoli si potesse realizzare un alternanza tra due partiti altrettanto democratici tra di loro un socialismo europeo e un popolarismo europeo quello che è sotto gli occhi di tutti è esattamente la dimostrazione di perché sono candidato ed eletto nel centro sinistra perché in questi ultimi anni progressivamente secondo tappe che ho segnato anch'io col mio abbandono di quella di quella stagione nel 2008 cioè 15 anni fa non venire l'altro il centrodestra è diventato la destra oggi ha vinto la destra non ha niente a che vedere col polo che nacque iniziamo da francesco bei per la destra non ha niente a fare più